Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dall'inquadratura e come avreste capito leggendo il titolo, faccio un video in un certo senso update sulla mia collezione di pietre. L'avevo già fatto nel 2014, però non lo rifaccio tanto perché si è cambiato chissà quanto, semplicemente perché volevo rifare quel video, anzi in realtà lo volevo anche cancellare perché era venuto male da un punto di vista di qualità, anche di luce e anche di audio. Non che adesso sia chissà che, però comunque lo volevo rifare da capo. Non l'ho eliminato perché ha raggiunto 4000 views e quindi insomma questo voleva dire che qualcuno era interessato e magari non volevo, mi sembrava brutto eliminarlo, quindi lo rifaccio da capo. Quindi io direi di iniziare, non mi perdo troppo in chiacchiere perché è l'ennesima volta che registro questo video. Vi faccio vedere prima i minerali che non sono quarzi e poi passerei alla categoria dei quarzi che sono più belli e più conosciuti ovviamente. Non sono più un patito di pietre come lo ero un tempo, questo l'avevo già detto nell'altro video, sia per un fatto di soldi e sia perché alla fine nei negozi e nelle bancherelle di solito trovo sempre le solite pietre che già ho e quindi è inutile comprare doppioni. Quindi direi di iniziare, non vi sto a dire tutti i prezzi eccetera perché non me li ricordo, però sono sicuro che vanno dai 2 ai 20 euro, ma tipo i 20 euro giusto una, giusto perché ero un po' rincoglionito, perché questo, perché ero un po' rincoglionito, perché insomma questa collezione l'ho iniziata nel 2009, quindi avevo 12 anni, quindi insomma l'età delle pazzie in fatto di sperperare soldi. E infatti direi di iniziare subito dalla prima pietra, ovvero questa, questa è la più costosa, pagata 20 euro, mi ricordo benissimo, alle grotte di Frassassi nel negozio che c'è fuori, in ingita in seconda media mi ricordo, tutti mi prendevano per pazzo per aver speso 20 euro per un minerale, però insomma alla fine è il più, sembra quasi più prezioso perché ha tutti questi cristalli trasparenti, pungenti, comunque questa è la celestina, ha questi cristalli celesti tendenti al trasparente grigiastro, e niente, questa è la più costosa, semplicemente. Questo sasso insulso, che in realtà non è un vero e proprio minerale, mi hanno detto che è legno pietrificato, che a quanto pare nella mia enciclopedia dei minerali c'è anche legno pietrificato, nonostante non sia un vero e proprio minerale, però essendo pietrificato rientra nella categoria delle pietre a quanto pare. Questo è stato un regalo, mi ricordo, non l'avrei comprato perché insomma anche l'estetica vuole la sua parte. Vabbè, questo mi ricordo benissimo, ci sono molti minerali che li ho presi in cartoleria con il fascicolo, c'era un periodo mi pare tipo dieci anni fa, nel 2009 o 2010, in cui le cartolerie vendevano dei fascicoli di minerali, ogni settimana veniva un fascicolo nuovo in cui trattava un minerale specifico, con il campione in omaggio, e quindi presi la muscovite, che è questa con i cristalli a scaglie, argentati un po' sul violaceo, l'aragonite, che è appunto questa pietra con i cristalli cilindrici color rosso mattone chiaro, e poi, ora non vorrei saltare, comunque altri, insomma, voglio andare per ordine perché ho provato di saltarne qualcuno, perché l'ho messi leggermente in fila e quindi non vorrei perdere il filo. Questo è un cristallo di gesso, semitrasparente, però se lo graffio, vedete, rimane un segno opaco, quindi se lo graffio tutto dovrebbe diventare opaco, teoricamente, essendo gesso, boh, non lo so. E questo è il gesso rosa, che è totalmente diverso da questo, quindi non lo so. Comunque, c'era scritto gesso e gesso rosa, nel negozio di souvenir di un parco archeologico, non mi ricordo dove, penso verso Volterra, sì, in provincia di Pisa. Mi ricordo di esserci andato con i miei cugini. Ecco, questo qui mi pare di aver preso anche questo con il fascicolo. Questa è la fucsite, che è questa pietra color verde-argentato, con qualche incrostazione color rosso mattone. Questa fucsite. Alcuni fascicoli o li ho comprati io o mi sono stati regalati, eh. Questa, che vedete, è la rosa del Messico. Si chiama rosa perché, a quanto pare, per la forma dei suoi cristalli, che sono a forma di petalo. Sembrano dei petoli ammassati tra di loro. Esiste anche la rosa del deserto, che è color sabbia del deserto, proprio. Quindi un colore più vivo. Questo è più sul begiolino, chiaro chiaro, quasi bianco. Questa è l'ambra, che come il legno petrificato è considerato una sorta di minerale, anche se in realtà non lo è, perché è una resina fossile. Questa penso che la conosciate. E poi questi, che non so cosa siano, perché li ho trovati io, in una spiaggia dell'isola d'Elba, vicino a Rio Marina. Praticamente c'era una spiaggia tappezzata di tutti questi sassolini qua. Anche sott'acqua, eh. Sott'acqua, mi ricordo, accecavano un sacco, perché con la luce del sole brillavano, che era una bellezza... era proprio una bellezza naturale, proprio. E la sabbia era nera. Quindi non so se è magnetite o ematite. Qualcuno, se lo sa, mi può avvisare. Poi, anche questo l'ho preso con il fascicolo. Questa è la pirite, o il pirite. Non so mai come mettere l'articolo. Comunque, questo è un ammasso di cristalli di pirite. In realtà i cristalli di pirite dovrebbero essere leggermente cubici. Però così non si riesce a notare, perché è tutto un ammasso di cristalli di pirite. Comunque il colore, non so se si riesce a capire, è un oro tendente all'argento. Poi, ecco, finiamo appunto con le pietre che non sono quarzi. Abbiamo l'opale. L'opale, che appunto, penso lo conosciate. Forse anche questo è un quarzo, non ne sono sicuro. Comunque, sempre dalla famiglia degli ossidi è. Che è bianco semitrasparente, iridescente. La sua proprietà si chiama iridescenza, ovvero il fatto che ha dei riflessi di tutti i colori dell'arcobaleno. Insieme a questo ho preso questo in un distributore di gemme, perché in qualche autogrill spesso e volentieri trovavo dei distributori di gemme. Come i distributori di chewing gum ci sono anche i distributori di gemme, con dietro tutta la cristalloterapia, tutte le proprietà dei vari minerali. Questa è l'uvite, verde con le macchie rosa. Ne ho due perché una l'avevo presa nel distributore e una me l'hanno regalata senza sapere che già ce l'avevo. Però questa qua è più grossa, quindi fa più un altro effetto. E adesso passiamo alla categoria di quarzi, che sono i più conosciuti e anche i più belli da vedere. Questo sasso insulso, in realtà, come vedete, sbrilluccica, perché ci sono incastonati dei cristalli di quarzoialino, o comunque cristallo di rocca, viene chiamato in tutti i due modi. Praticamente è la quarzite, ovvero la roccia su cui crescono i cristalli di rocca. Questo mi ricordo è stato un regalo, perché se fossi nel negozio non l'avevo comprato, perché in prima impressione mi sembrava un sasso normalissimo. Poi, l'immancabile ametista, questa è stata la prima pietra che ho comprato, anche questa presa con il fascicolo. E niente, è il quarzo viola. Esistono dei ametista che hanno un viola più intenso come colore dei cristalli, questo è un viola molto più chiaro, anche perché si è un po' impolverato, perché questo qui veramente ce l'ho da 2009, quindi è abbastanza datato. Poi, le altre varietà di quarzo si chiamano... Ah no, finiamo con i quarzi, allora salto un po'. Allora, questo è il quarzo madera. All'inizio mi avevano detto che era quarzo citrino, almeno nella bancherella, poi facendo il video del 2014 mi hanno detto che non è quarzo citrino. E infatti lo dicevo anch'io che avevo qualche dubbio, perché il quarzo citrino dovrebbe essere giallo limone, invece questo qui è giallo ambra. Infatti, un utente mi ha detto che era quarzo madera, e infatti facendo una ricerca ho scoperto che è così. Quindi questo è quarzo madera, mi manca il quarzo citrino a quanto pare, perché ho il quarzo rosa, che vabbè, ecco, alla luce sembra bianco, in realtà è rosa, lavorato super bene, liscissimo, lucidissimo, ovviamente non si trova così in natura. Questo è il quarzo rosa. Questo è il quarzo affumicato, ovvero il quarzo nero, praticamente marrone scuro scuro, preso in una bancherella a folloni. Questa è stata l'ultima pietra che ho comprato tre anni fa, perché, come vi ho detto, non sono un appassionato di pietre, ma quando vedo qualcosa di defetto che mi manca nella collezione, mi sforzo e lo prendo. E poi questo è il quarzo ialino cristallo di rocca, quello di cui vi parlavo qui. ovvero questi cristalli di rocca sono praticamente i cristalli del quarzo ialino, praticamente. Si chiama in tutti e due modi, quarzo ialino o cristallo di rocca. Quindi praticamente è come se questo si trovasse sopra questa roccia, praticamente. Questa è la quarzita e questo è il quarzo ialino o cristallo di rocca. Quindi questo è il quarzo trasparente, sarebbe, con i cristalli trasparenti. In realtà, nell'altro video, ve li ho fatti vedere burattati. Burattati si intende come, vi ho fatto vedere l'opale o l'uvite, ovvero a sassolini. Le pietre burattate sono le pietre vendute a sassolini. Nell'altro video vi avevo fatto vedere, appunto, i burattati di cristallo di rocca, solo che erano talmente trasparenti che sembrava vetro. Quindi ho detto, vi faccio vedere questo, che è molto più realistico. Questo, appunto, era nel soggiorno, semplicemente, non è che l'ho rubato a qualcuno, semplicemente si usava come sovrammobile. E quindi ve l'ho fatto vedere, perché ho anche questo. Ma evito di farvi vedere, appunto, gli altri campioni burattati, perché sembrano finti. Questo, invece, è più realistico. Poi, abbiamo il calcedonio, che, il calcedonio, come le sue varietà, le varietà più conosciute del calcedonio, è l'agata. Vengono vendute o burattate, quindi a sassolini, oppure a fette. Quelle a fette sono le più amate, perché si vede proprio il colore, la trasparenza, insomma, sono molto belle da vedere. Infatti, qui c'ha un semibuchino, non so se riuscite a vedere. Ha un semibuchino, proprio qui, perché faceva parte di un ciondolo da appendere fuori dalla finestra. Avete presente quei ciondoli che hanno degli elementi pendenti che, se si scontrano, fanno rumore per rilevare il vento, i movimenti dell'aria? Ecco, avevo un ciondolo da appendere alla finestra con quattro fette di calcedonio, solo che una mi si è rotta e quindi ho detto, se che c'è, le stacco tutte e le tengo come collezione. Una ce l'ho io, l'altra non so che fine abbia fatto, l'altra ce l'ha mia sorella, perché anche lei, per un breve periodo, collezionava le pietre come me. Quindi questo è il calcedonio, che sarebbe la varietà di quarzo, anzi, in realtà dicono che è il nome generico di quarzo, però vabbè, sarebbe il quarzo con i colori tenui, quindi grigio, bianco, un po' azzurrino. Questo è il calcedonio. Una varietà del calcedonio, come vi ho detto, era l'agata. L'agata sarebbe la varietà di calcedonio con le striature concentriche, come vedete. Questa è la corniola. La corniola sarebbe l'agata color marrone-arancio, cioè questo colore tra il marrone e l'arancione, molto molto bello. Ed è sottilissima questa fetta, veramente. L'ho presa insieme a questa, che non so cosa sia, è sempre un'agata, è un'agata solo oscura. Dovrebbe essere un onice nero, però non ne sono sicuro, se qualcuno lo sa mi può informare. Questi due l'ho presi insieme alle grotte di Postumia, nel negozio gigante che c'è fuori alle grotte. Ed era bellissimo. Se avessi avuto più soldi avrei comprato tutto. Avrei comprato un sacco di pietre, assolutamente. Un'altra varietà di calcedonio è il diaspro. Questo è il diaspro rosso. Bellissimo, super lavorato, liscissimo, lucidissimo. L'ho preso insieme al quarzo rosa. Infatti sono fatti nello stesso modo, perché sono levigati, lavorati benissimo. Stessa cosa come l'occhio di tigre. L'occhio di tigre è una tra le mie preferite, perché ha questi colori bellissimi che fanno pensare a un manto di tigre. Quindi è bellissimo. Bellissimo, bellissimo. E le ultime sono le agate geode. Le agate geode sono quelle agate che hanno la parte centrale scavata, nel senso che hanno la cavità a forma di geode, quindi di una sorta di cerchio, ma non è un vero e proprio cerchio. E ce l'ho sia sia bianca che ora non è proprio nera, però comunque sia bruna. Ecco. E all'interno ci sono tutti i cristalli, mentre fuori sono lucide. Molto molto belle. Ne ho due della varietà più chiara, perché una è di mia sorella, però per farvi vedere che come se fossero che in unite formano una singola pietra. Come se fosse tagliata a metà e all'interno fosse parzialmente cava con tutti i cristalli all'interno bianchi con i puntini neri che sbrilluccicano. E' bellissima. Bene, ve l'ho fatta vedere tutte. Sì, penso di sì. Sì, perché nell'altro video che avevo fatto avevo dimenticato questa e quindi l'ho dovuto rifare da capo. Quindi niente, grazie per avermi seguito. se volete informarmi su qualche errore che ho fatto durante questo video o magari su qualche dubbio che avevo su appunto queste due pietre qui che vi dicevo prima. Se siete esperti fatemelo sapere, ogni commento è ben accetto. E quindi nulla, ci vediamo al prossimo video. Grazie per avermi seguito. Ciao!